Ragazzi, eccoci qui finalmente su Dragon Ball Z Dokkan Battle, ovviamente, ovviamente, Dokkan Battle Allora ragazzi, oggi è uscita Android 21 Ovviamente sto pullando sul mio secondo account, per chi sul primo ha pullato a raffica su Heroes Vi dico la verità, anche sulla summon di Goku Super Saiyan 4 Quindi sono rimasto a 0 Ok raga, 150 Dragon Stones, lo pulliamo ovviamente Io vi dico che questo banner, personalmente parlando, mi piace, per quale motivo? Ovviamente parlo del mio account I gamma mai trovati, mai, mai, mai Anche nella summon di Goku, se non erro, c'erano i gamma, non li ho trovati Kale non l'ho trovata Gli androidi non li ho mai trovati E vabbè, ovviamente il personaggio nuovo Raga, io direi, non perdiamo tempo E pulliamo, vediamo Allora, ovviamente vi ripeto, questo è il mio account secondario Iniziamo bene, iniziamo bene Allora, è l'unica pull che mi so fatto sul mio account Che, vabbè, ovviamente pubblico gli Shorts Quindi sarà pubblicato come Shorts La mia faccia dice tutto Vabbè, vediamo Allora, Gini Raga, vado Allora, diciamo che i miei video non... Ok, vabbè Ad esempio, se fosse stato il mio account Non mi sarebbero importati più di tanto Perché lo sapete come sono fatto io Pullo più per la carta che non ho Piuttosto che per l'ability Anche perché, raga, io Cioè, anni fa spendevo soldi sul gioco Ora non... Cioè, sinceramente da parecchi anni che non spendo soldi su Dokkan Ma poi spendevo tipo, che ne so 2 euro, 3 euro, 8 euro Cioè, mai di più Ah, ok PG banner Vabbè, così A random Vabbè Ci sta, ci sta PG banner Ok, così A random Però vediamo Potrebbe esserci anche un'altra carta Vediamo Attenzione Ehm Ah, fake out Ah, eccola Ok Ok, ok Ma l'altra io non ho capito che cos'è un rare summon Cioè, credo di sì Cioè, non è un... Non è un Dokkanfest, penso Perché non vi sta anche un'altra di carta simile Vabbè, comunque Ehm Ok, quindi solo lei? Non lo voglio capire No, secondo me ce n'è un'altra Vediamo No, vegeta, ok Comunque stavo dicendo che Ehm No, raga, mi sono scordato Stavo dicendo qualcosa, ma mi sono scordato Vabbè, fa niente Ovviamente, raga, ecco Anzi, forse stavo dicendo il fatto del perché Vado molto veloce, raga Semplicemente perché Ah, un altro Ah, un altro banner, ok Blu? No Vado molto veloce, raga Perché Io Edito tutto da Ah, long Se non era era long Edito tutto da cellulare Quindi Diciamo che ci mette un po' Per fare il tutto Ecco, se fosse stato il mio account Sarebbe stato positivo Perché loro non li ho L'android ovviamente è nuova Non ce l'ho Quindi non è male Vabbè, comunque Quindi ecco perché vado molto veloce Anche perché poi questo video Vi spiego un po' come faccio Questo video Questo qui Lo passo sull'altro iPhone Ah, bene Lo passo sull'altro iPhone Ehm Ok Lo passo su Sto morendo Lo passo sull'altro iPhone E vabbè Devo un po' unire le cose È un po' complicato Non è poco facile Vabbè, raga Secondo me Ci sta Ci sta Sì, secondo me ci sta Infatti come potete vedere Che ci sta Chissà che Vediamo Dov'è? Eccola qui Vabbè, raga Io Vi ringrazio Per aver visto questo video Ovviamente, raga Lo sapete Io Dokkan Vi pullo solo Le summon O gli shorts Fine Poi il resto Mi trovate su Twitch Infatti vi lascio Il link in descrizione Se volete Passate lì Ehm Nulla, raga Vi ringrazio Io Non lo so Ci vediamo Probabilmente Quando uscirà Qualche summon nuova Probabilmente a Natale Quindi ci vediamo Probabilmente lì per quanto riguarda Dokkan E nulla, raga Vi ringrazio Vi mando un bacio Un abbraccio E Prima che mi scorda Perché mi scordo spesso Vi ricordo che ovviamente Se il video vi è piaciuto Magari mettete like Commentate Scrivete Attivate la campanella Che ha soprattutto Quello importante E nulla, raga Ci vediamo Ciao